Ho scelto di partecipare all'apprendistato perché penso che sia un'opportunità unica per un ingegnere elettrico potersi interfacciare già un anno prima della laurea al mondo del lavoro. Ho scelto di iscrivermi al programma di apprendistato perché era sicuramente un'opportunità preziosa dato il mio percorso di studi. Questo mi dava l'opportunità di consolidare al meglio ciò che sto studiando. Ho scelto di iscrivermi a questo programma di apprendistato perché l'Enel è una delle aziende più grandi nel settore elettrico e essendo amante e studiato del settore non poteva farmi sfuggire questa opportunità. Presentava un'opportunità irrinunciabile soprattutto per continuare un percorso di studi unitamente a un percorso di lavoro nel quale venivo inserito. I punti di forza del programma sono sicuramente la possibilità di comunque incontrare e conoscere persone competenti che sicuramente con la loro esperienza possono arricchirci da un punto di vista formativo ma anche professionale in un futuro. I punti di forza di questo programma sono la disponibilità che ci ha dato Enel di poter seguire i corsi universitari e quindi una programmazione in sintonia con l'università e di vedere poi quello che viene a scegliere attraverso i libri sul campo. Dono la flessibilità che il programma offre in coordinamento con l'università e sicuramente la possibilità di avere degli insegnamenti inerenti al mondo della distribuzione. Credo che quello più importante dal mio punto di vista è il fatto di cambiare il modo di approcciarsi nello studio. È subentrata proprio la voglia di capire perché appunto entriamo all'interno del servizio elettrico che è una necessità per le persone. Le principali competenze che ho acquisito sono quella di riuscire e di migliorare la mia capacità di lavorare in gruppo e anche di migliorare le mie competenze e conoscenze nell'ambito in cui sto lavorando. Durante questo percorso oltre ad aver acquisito competenze prettamente scientifiche legate al mondo della distribuzione ho anche acquisito competenze personali poiché entrare in contatto con tanti esperti del settore ti fa crescere anche a livello personale. Sicuramente approfondimenti per quanto riguarda le materie fatte dall'università ma anche diciamo competenze di livello tecnico pratico che ci serviranno appunto un domani sul lavoro. Le mie prospettive per il futuro sicuramente sono quelle di conseguire la laurea e entrare al 100% nel mondo del lavoro per poter mettere in atto effettivamente tutto ciò che ho studiato e potermi dedicare con passione al lavoro che ho diciamo ovviamente ricercato. Bisogna sicuramente finire gli studi e successivamente intraprendere una carriera all'interno di questo gruppo. Sicuramente laurearmi per poi poter accedere liberamente poi all'azienda e continuare a lavorare all'azio interno e cercare di crearmi una carriera. Le mie prospettive del futuro innanzitutto quello di completare il mio percorso di studi e allo stesso tempo di poter crescere ancora in questa azienda per tanti anni.